Bradley Smith è un ritorno all'origine, sei in Italia lontano dall'Inghilterra ma il paddock è più o meno lo stesso di quello in cui hai immosso i primi passi nelle competizioni. Sì grazie, è molto bello essere ritornato al clima dei trofei amatoriali, mi piace molto il clima che c'è qui nel Moto Estate e il lavoro che fa per promuovere i giovani. Qui il circuito di Varano è nuovo per me ma mi piace molto e sto seguendo tutte le varie categorie e osservando se ci sono particolari contendenti interessanti per una carriera futura. Mi sto focalizzando sicuramente sulle categorie della Moto 4 e della 300 ma anche della 600. Claudio Corti ti sta prendendo in giro perché sei caduto, che cosa è successo? Come sempre sono troppo competitivo anche se ormai ho 30 anni ho sempre lo stesso spirito agonistico, gli errori ci stanno ma è sempre divertente. Qual è il tuo progetto? Sei in Italia, vuoi sviluppare un progetto che vada su tutto il territorio europeo, sui giovani piloti. Qual è l'obiettivo? Sì, sono qui perché il Moto Estate è tra i trofei meglio organizzati e tra i più competitivi del mondo. Stiamo osservando i nuovi talenti in Francia, in Germania, anche addirittura in Australia. Ma se i talenti vogliono emergere e avere un futuro devono stare qui in Italia oppure in Spagna, che sono le nazioni più competitive. E un'ultima parola, qual è la situazione che hai trovato dopo le 20 quando cominciamo a tagliare il salame? Sì, mi piace molto quando le luci si spengono e quando si beve una buona birra e si taglia il salame. Sì, sì, è la parte più bella.